Allora, sabato tutti a fare la spesa, ma non solo per se stessi. Esatto, facciamo la spesa anche per chi ha bisogno, insomma, per i poveri. Questa è un'iniziativa diffusa su tutto il territorio nazionale e anche da noi c'è stata la risposta dalle Caritas. Esatto, siamo al diciannovesimo anno che viene effettuata la colletta alimentare. Alla colletta alimentare partecipano le Caritas e le varie associazioni Onnolus che sono poi legate al Banco Alimentare. Nella nostra zona in particolare sono le Caritas di Ponte Nossa, Ponte Selva, le Caritas di Ardesio, la Caritas di Clusone, la Caritas di Rovetta, di Castiglione della Presolana e l'Unione dei Comuni della Presolana. E quindi ci sarà la possibilità di fare la spesa anche per gli altri, consegnando quanto acquistato direttamente fuori dai supermercati. Esatto, nella nostra zona sono coinvolti 11 supermercati e 27 negozi di genere alimentari. All'ingresso troverete dei volontari e soprattutto gli alpini che collaborano fin dall'inizio su tutto il territorio italiano per questa manifestazione. Vi consegneranno delle borsette, dei volantini che spiegano che quello che andiamo a raccogliere sono per le famiglie che hanno bisogno di sostegno per arrivare a fine mese. E voi liberamente quando entrate comprate e fate la spesa anche per loro. E cosa bisogna acquistare? Ci sono dei consigli? Sì, certamente, soprattutto prodotti a lunga conservazione. Fortunatamente in questo momento la sede centrale di Milano ha tanta pasta e tanto riso in magazzino grazie proprio alle raccolte e ai fondi che arrivano dall'Unione Europea. ma abbiamo bisogno anche non solo di prodotti alimentari e pensiamo ai prodotti per l'igiene della casa ma anche per l'igiene della persona. Se pensiamo ai bambini piccoli ci sono anche i pannolini da raccogliere per loro e poi vanno bene tutti i prodotti in scatola dal tonno ai fagioli che sono un ottimo alimento. ma anche lo zucchero è fondamentale, il caffè che sono quei prodotti che difficilmente riusciamo poi a reperire attraverso l'Unione Europea. E qual è l'iter di questi prodotti dopo la raccolta? Allora, lo stesso giorno sabato, ecco la raccolta inizia sabato mattina e finisce sabato sera, lo stesso giorno i prodotti vengono portati in questo caso in due centri Clusone e Ponte Nossa dove vengono separati per genere, vengono pesati e a questo punto inscatolati e diciamo che il 40% andrà alla sede centrale di Milano e poi ci ritornerà nel corso dei mesi successivi. Mentre invece il 60% resta sul territorio e viene proporzionalmente diviso all'interno delle caritas del territorio e del Banco Alimentare dell'Unione dei Comuni proporzionalmente alle famiglie e al numero di persone che accedono al Banco Alimentare. Ricordiamo anche qualche numero sulle precedenti iniziative? Sì, certamente. L'anno scorso è stato un anno molto buono. Tenete presente che a livello nazionale abbiamo avuto più di 135.000 volontari. Si sono stati raccolti più di 9.000 tonnellate di cibo e di queste 11 tonnellate sono state raccolte nel nostro territorio.